Toff Quello che state per vedere non è un film come tutti gli altri perché è un film in cui gli autori, gli attori, i protagonisti e i registi siete voi Se l'uomo stupidamente non ci andasse a costruire sotto È una tragedia annunciata Ora c'è gente che muove tutta la pianura 1700 decensi Paura 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 Toff I pescatori si lamentavano che i pesci tiravano su dei pesci con delle strane malformazioni Toff È chiaro che il problema dei rifugi a Napoli è possibile risolverlo Toff L'Osi di Ripa Bianca è la realizzazione di un sogno Toff 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 Toff